Io confido che anche voi possiate intercettare questa nuova ondata di export. Mi farò carico anche delle puntuali istanze che mi hanno rappresentato, quindi cercherò di battermi in tutte le sedi. State sicuri che i fondamenti della nostra economia sono forti. La nostra economia è solida e noi dobbiamo soltanto continuare a lavorare e il governo farà la sua parte, ma siamo una grande squadra, governo, istituzioni quindi, imprenditori, lavoratori. Dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sistema. Stiamo riservando delle attenzioni particolari in questa manovra economica in termini di sbagli fiscali. Anche lei diceva che il costo del lavoro, per certo. Ci diamo conto che in Italia nel corso del tempo si è accumulato un costo del lavoro che ci rende poco competitivi. Su questi altri fronti stiamo lavorando con massima concentrazione perché abbiamo tutte le parti regola per liberare le nostre potenzialità. Siamo la seconda azienda manifatturiera in Europa. Siamo forse il paese che ha il tessuto di micro, piccole e medie imprese più forte, più solido di tutta l'Europa. E di questo dobbiamo essere fieri. Quindi veramente grosso sostegno a voi, grossa vicinanza e attenzione da parte del governo e soprattutto vive il legame tra Italia e Russia. Grazie.